Per gli italiani scuole, aziende, stadi, chiusi. Per gli immigrati all'ONG i porti però rimangono aperti. Mentre gli italiani rischiano di prendere la multa se si allontanano i 201 metri dalla propria abitazione, mentre portano in giro a far pipì il cane. Oppure se non hanno l'adeguata giustificazione, e questo è assolutamente corretto, se si allontanano perché magari il supermercato sotto casa non è ben servito e decidono di andare in quello un po' più lontano, magari a 200-300 metri di distanza, beh, si beccheranno la multa. Il buonsenso degli italiani è sotto gli occhi di tutti. Milioni di persone sono letteralmente recluse in casa da oramai parecchie settimane e la stragrande maggioranza degli italiani rispettano queste regole. Peccato che a non usare il buonsenso il governo conte. Sì, perché mentre gli italiani sono reclusi in casa, i porti rimangono totalmente aperti. Ci avevate creduto la settimana scorsa quando ben quattro ministri hanno firmato per la chiusura dei porti, peraltro facendo esattamente quello che faceva Matteo Salvini, per cui purtroppo, come sapete, certa magistratura lo ha indagato. Da allora apriti cielo, chiaramente, gran parte della sinistra, più Europa, Italia viva, insomma, il PD, i 5 Stelle, tutti quanti a dire che i porti devono essere assolutamente riaperti. Chi se ne frega della pandemia? Chi se ne frega degli italiani? Insomma, tutti d'accordo con la signora Caterina Ciuffegni, medico dell'Alan Kurdi, italiana 35enne, che dice pandemia o non pandemia, a me interessa poco. L'importante è salvare le persone che fuggono dalla guerra e dalla fame. Ancora una volta ci domandiamo ma da dove arrivano questi che scappano dalla guerra e dalla fame? Visto che passavano dalla Turchia, andavano in Grecia, ma l'Europa, giustamente, ha interrotto i flussi perché non ci sta alla politica della carne da macello utilizzata dal dittatore Erdogan. E così, la domanda che ci siamo posti tutti è ma dove vanno a finire questi immigrati che vengono sbarcati? Dovranno subire una quarantena? Oppure, come se nulla fosse, possono scendere sul territorio nazionale e andare assieme agli altri immigrati che risiedono, ve lo ricordo, in luoghi che sono aperti, quindi potendo uscire serenamente avanti e indietro mentre noi italiani siamo chiusi. La risposta il governo non l'ha avuta e quindi ha rimbalzato la palla alla protezione civile. E sapete che cosa ha deciso la protezione civile? Beh, innanzitutto affittare degli alberghi che potranno ospitare queste persone durante il loro periodo di solitudine in quarantena. Oppure, siccome i sindaci siciliani sono disperati per una situazione che sta realmente diventando insostenibile, si addirittura ha deciso di affittare delle navi. Sì, perché, appunto, poverini, i signori immigrati, siccome non possono rimanere, chissà come mai, per qualche giorno sulle navi che li portano qua, quelli dell'ONG, perché almeno si liberano, possono girare la prua e andare nuovamente a fare il loro raccolto. Sì, sì, almeno sono liberi di farlo. E invece gli immigrati che sono stati sbarcati vanno direttamente su delle navi dove seguiranno la loro quarantena. Ma scusate, ma non era così pericoloso lasciare gli immigrati a mollo? Perché mi sembra che Salvini sia stato indagato proprio per questa ragione qua. Le nostre vite stanno cambiando a causa del coronavirus. Le nostre vite stanno cambiando a causa di questa pandemia. Le nostre vite cambieranno a causa di questo virus. Ci sono poche certezze con tutte le novità che questa terribile pandemia sta portando anche nel nostro paese. Ma una di queste è che grazie al PD, al Movimento 5 Stelle, ai Renziani, all'EU, a Più Europa, beh, grazie all'NG, gli immigrati potranno continuare a sbarcare in questo paese. Tutto questo è merito dei governi idioti che si dimenticano degli italiani, che non ci procurano ancora le mascherine, che non ci danno tutto quello che serve, che annunciano le casse integrazioni, i sostegni agli imprenditori, che annunciano agli italiani, ma per gli immigrati. e le ONG fanno, fanno, fanno tutti i giorni. Buon lavoro, Conte!